Il conto alla rovescia per la presentazione del piano è partito e la roadmap è confermata da fonti di Palazzo Chigi. L'Italia presenterà puntualmente il piano entro la fine del mese, assicura il governo. L'esecutivo ha definito un cronoprogramma dettagliato. Il premier chiuderà gli incontri con i partiti. Ascolterà le parti sociali e poi illustrerà alle camere il 26 e 27 aprile il piano. Fatto di 191,5 miliardi circa. Di cui 69 a fondo perduto. 122 prestiti. Più 30 del fondo di accompagnamento al PNRR messa appunto la strategia sul piano vaccini. Mario Draghi accelera ora sulla definizione delle prossime tappe per la messa in sicurezza dei conti e soprattutto delle ricoveri. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR, è infatti sulla rampa di lancio e sarà a Bruxelles entro la scadenza del 30 aprile. Vaccini. Oltre 15 milioni di somministrazioni. Veneto in testa. Bandiera italiana e Unione Europea issate dal Palazzo Chigi. Roma 15 novembre 2019. Ansa, Giuseppe Lami il conto alla rovescia per la presentazione del piano è partito e la roadmap è confermata da fonti di Palazzo Chigi dopo che alcune indiscrezioni avevano ipotizzato un rischio di slittamento. L'Italia presenterà puntualmente il piano entro la fine del mese. Assicura il governo ed anche da Bruxelles fonti europee lo ribadiscono. Grazie a tutti.